Allo stadio Angelini va in scena il match clou della 27esima giornata. Chieti contro Torrese, prima contro seconda della classe. I nero-verdi, forti del successo di Alba Adriatica, vogliono lanciare l'affondo decisivo mentre i terramani cercano una vittoria per riaprire il discorso promozione. Dirige l'incontro tassano della sezione di Chiavari. La prima occasione è per i locali con questo colpo di testa di Miccichè che non impensierisce Bruno. Al sedicesimo il primo colpo di scena. Chiacchiarelli, uno dei protagonisti attesi della gara, deve uscire per infortunio. Al suo posto entra Tini. La Torrese dimostra comunque una buona personalità e al ventiduesimo Kruger si rende pericoloso. Alla mezz'ora il tiro a giro di Morales non trova la fortuna sperata. Si va così a riposo sullo 0-0. Nella ripresa il Chieti parte meglio. Al settimo azione personale di Marfisi che semina il panico tra i difensori ma non finalizza. È il preludio al gol. Al ventesimo angolo di Miccichè e Daniele Ricci di testa fa esplodere la curva Volpi firmando la rete dell'1-0. I giallorossi non ci stanno. Puglia non riesce ad impegnare Alonzi. Arrivano le proteste per questo presunto tocco di mano in area di Toro che vi riproponiamo. La tensione in campo sale e nel finale arrivano ben due espulsioni. Stacchiotti lascia in dieci gli ospiti per questo intervento su Morales che dovrà usare. Mentre l'espulsione di Rodia per doppia munizione pareggerà il conto degli uomini sul terreno di Gio. E' questa l'ultima emozione del match. Delusione per la Torrese che pur non demeritando lascia il campo senza punti. Festa per i padroni di casa che a più 11 proprio sui giallorossi compiono un passo importante verso la promozione. Sì, oggi il Chieti ha fatto il Chieti. È chiaro che era una partita difficile, una partita importante. Una partita contro un avversario che è venuto qui a fare la partita e che ci ha messo in difficoltà. Perché la Torrese è realmente forse la seconda forza del campionato insieme al Chieti. Oggi ce la siamo giocata così come loro ce la sono giocata. Una grande prova soprattutto di carattere su un campo che per noi è sempre difficile qui in casa. Contro una squadra che ha giocato la partita a viso aperto dal primo all'ultimo minuto. La prova dei nostri ragazzi è una prova che ha dato credo un segnale a questo campionato. facendo capire che i sacrifici che stiamo facendo sono veramente quelli di un gruppo che sta provando con tutti gli sforzi e con tutte le sue forze a uscire da questa categoria. Bravi ragazzi, bravo l'allenatore, bravo il mister. È una parola per Ricci, il nostro capitano che veramente in campo non molla mai. Certo, sono d'accordo. È chiaro che in questo tipo di partite la Torrese aveva più da perdere. Nel senso, o meglio, è venuta per cercare il risultato pieno e ci ha provato all'inizio. Quindi noi sapevamo che bisognava fare anche, avere dei momenti durante la partita di sofferenza, di essere però applicati e concentrati, di lasciare per certi versi sfogare un pochettino questa squadra che comunque ha delle individualità. Ha avuto anche delle defezioni durante la partita che ci hanno un po' agevolato. Però poi nel secondo tempo credo che noi siamo usciti un pochettino fuori, abbiamo sistemato qualcosa negli sfogliatoi. e devo dire che fatto il gol poi non abbiamo rischiato quasi più nulla e alla fine il risultato ci può anche stare. No, hai detto bene, abbiamo fatto un grandissimo primo tempo dove siamo venuti qui a giocarci la nostra onesta partita. Volevamo metterli in difficoltà, volevamo esprimere il nostro gioco, cercare di creare le occasioni per poter andare in vantaggio. Non ci siamo riusciti. Nel secondo tempo siamo scesi un pochino di intensità, ci siamo allungati un pochino e il Chiedi è uscito un pochino fuori. Vista la loro qualità abbiamo preso quel gol sul calcio d'angolo, altrimenti la partita sarebbe potuta scemare con un pareggio che tutto sommato poteva essere anche il risultato più giusto. Io sono molto orgoglioso dei ragazzi perché hanno dato tutto, ho chiesto in settimana di affrontare questa gara come se fosse una finale e loro hanno dimostrato di non essere inferiori al Chiedi. Ce la siamo giocata a viso aperto, quindi devo dire bravi. Per noi da domani inizia un nuovo campionato e quindi dobbiamo assolutamente ricaricare le batterie perché domenica abbiamo lo spoltore e quindi dobbiamo subito ripartire.